opere di Elisabeth Chaplin nell'atelier di Anna Fendi. Migliaia di invitati hanno costellato in ogni punto le vie ammirando bellezze artistiche e storiche, fra cui il prestigioso albergo d'Inghilterra. La mostra, curata da Giuliano Serafini, rimarrà allestita fino a domenica prossima. Noi prepariamo la strada, la lustriamo, diventa sempre più un giardino, quasi una serra, in questa settimana della moda a Roma. E normalmente, abitualmente, esponiamo nelle vetrine degli operatori, degli spazi commerciali delle strade, perché sono due le strade dell'associazione, via Piazzetta Bocca di Leone e via Borgognona, ospitiamo delle opere di un artista e chiamiamo questa manifestazione Arte in vetrina.